Ed ora i consigli letterari di Colofon e di Mino LaRusso. Angelo Fanelli ha scritto Il letto a volante, il libero pensatore a edizioni. Un libro fortunato, Fanelli, di cosa si tratta? Si tratta di un vecchietto, piccoletto, ma gruccio e senza denti, che a un certo punto per combattere la malattia decide di costruire un letto a motore. È una favola e anche una storia vera. La storia vera è di Vittorio Gorini, libero pensatore della città di Perugia, famosissimo in città per i suoi 101 messaggi di saggezza, per le sue macchine impossibili con le quali girava per la città, che noi curiamo come associazione libero pensatore dal 2009. Stiamo recuperando, facendo tutto il lavoro di ricerca su questo personaggio, perché c'è dietro anche una filosofia del campare bene, che in questo momento è quanto di più utile noi possiamo avere. Un pensiero uno. Un pensiero che la leggerezza è il miglior antidoto contro la disperazione o contro la crisi, che sia economica, personale o di qualunque altro tipo.